Arbitro della partita è il signor Petrovic della Federazione Jugoslava, tutto è pronto per il calcio d'avvio, amichevole di lusso, tra disimpegna bene ed ecco Gullit, nuovamente Blind, Gullit, parte il suggerimento verso il difensore esterno Blind che tocca all'indietro a Winter il quale campagna olandese, sembra sempre che debba diventare il tecnico della nazionale, il celebre Tocco in profondità per Gullit, parte il cross, Gullit va altissimo Van Basten, tutto l'arbitro Petrovic, fa la ora per Gullit, Gullit e Dezgeri, Gullit Tocco ancora per Van Basten e suggerimento molto bello per Gullit che dall'uscita ripartono gli irlandesi, Gullit, Gullit, voters, Blind, Blind, Gullit, Gullit gioca piuttosto arretrato su Gullit, ecco che arriva anche Vich che è al limite dell'area, parte il cross Bergomi, palla sfiorata di testa recuperata da Gullit, c'è ora De Agostini su di lui, ancora Bergomi due minuti al termine fuori gioco di Gullit Valx, Gullit c'è il palo, intanto l'Olanda viene in avanti con Gullit, Gullit deve vedersela ora con Baresi sbaglia il tocco, De Agostini, Baresi, Baresi, Baresi poi di finezza su Gullit, Blind, parte il cross, attacca Van Basten, Gullit un avversario, azione ancora pericolosa dell'Olanda, Winters, Gullit e Maldini, più alto Maldini, poi il colpo di testa di Blind, ancora altissimo Gullit, rischia fuori bonda, Gullit, bella divinta, poi impostazione su Gullit, Gullit anticipò di Vier con molta determinazione, Blind, parte il cross a cercare la testa di Gullit che li fa il difensore centrale che si sgancia, da dentro a Gullit, si gira Gullit, effettua in questa amichevole con la nazionale campionata, lunghissimo il traversone verso Gullit che riesce a un gioco d'attacco continuo all'Olanda, Gullit, palla fuori, Bergkamp su cui c'è Marocchi parte il cross, abbastanza insidioso, va a recuperarlo da quest'altra parte Gullit che si è aperta fase finale della gara per gli azzurri, Gullit, Camp, Gullit, parte il cross, immagini in diretta, Gullit, Viercovo, ma Viercovo non rincorre Gullit, è scusciato, si è presentato da solo davanti a Barambo, Broekle che l'ha fermato, attenzione ora ai Gullit nella nostra l'area di rigore, va sul fondo, recupero, ecco il fisco della...